Mi piace il momento, come sapete mi sono insodiano da poco tempo, quindi stiamo lavorando giorno e notte e cercando di fare le cose il giorno possibile. Non appena ci saranno novità, ve le comunicheremo. Buon lavoro a tutti quanti. Scusi, una domanda sola. Siamo con sollecitudine a Terni quello che avverrà, la vita societaria? Vi vedo, stiamo dando 100% giorno e notte a bene la società e insomma poi quando gli daranno comunicazioni la fare, ovviamente vi informerete. Grazie.